Crisi energetica CGL parte la mobilitazione in tutti i 21 comuni della provincia. Serve una scelta di campo giusta e coraggiosa e occorre farla subito. Questa farà la differenza. Non possiamo più aspettare i tempi della politica. Subito un tetto alle bollette, un nuovo bonus di almeno 800 euro per consentire a chi è più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dover scegliere se fare la spesa, curarsi o pagare luce e gas. L'attuale governo deve agire subito. Il disagio sociale non può più aspettare i tempi della politica, sostiene Roberto Alosi, segretario provinciale della CGL Siracusa. Occorre tutelare dall'inflazione stipendi e pensioni e aumentare i redditi relativi recuperando le risorse attraverso la tassazione al 100% degli extra profitti delle multinazionali dell'energia. E' una convinta radicale lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Per queste ragioni metteremo in campo tutta l'iniziativa di mobilitazione possibile perché queste misure siano realizzate, sottolinea Alosi. Cominceremo lunedì 19 e proseguiremo per l'intera settimana con un volantinaggio in tutti i mercati, fiere e strade principali del territorio e lo faremo in tutti i comuni della nostra provincia mobilitando le nostre 21 Camere del Lavoro per porre all'attenzione di quante più persone possibile le rivendicazioni e le proposte che tenacemente stiamo portando avanti affinché di lavoro, pensioni, lotta al precariato, alla povertà e alle disuguaglianze, al diritto alla salute e alla giustizia sociale, i partiti decidono una volta per tutte di occuparsene davvero e lo dicano chiaramente adesso e non dopo.